Alcuna matata ragazzi e ragazze, ben ritrovati in questo video dove andrò a giocare con Grax Prima però di iniziare il video vi voglio ricordare, level up con il mio codice coupon Cicciocamero89 Otterrete sempre uno sconto, sapete che i miei gusti preferiti sono la Bubble Boom e la Shadow Burn La Burning Shadow, l'avevo detto al contrario Quindi signori trovate il mio link qui sotto in descrizione se mi volete supportare Signori ed eccoci qua, ben ritrovati, subito un miliardo di like perché siamo tornati con il nostro Craxone Ciao bellissimi, primo video dell'anno Madonna ragazzi ma veramente, a tanti auguri di buon inizio, hanno tanta salute a tutti quanti Regà veramente, Crax è un onore iniziare questo anno insieme a te Diciamo che questo è l'anno particolare, quindi chi ben comincia a metà dell'opera Ragazzi ci siamo, poi ovviamente ho risuperato Crax in ladder, è inutile che lui fa tutti quei video, quei razzo, che cose Mi sono messo 40 minuti in ladder, tac, superato Ringrazio perché così posso fare altri video che risupero E certo, è certo Oh tra l'altro, ma se non erro, oggi, oggi scusami, oggi è... Ah no, perché tra poco ricomincia anche la Season 3, se non erro Vi voglio far vedere una cosa, se voi andate nello shop, qua sotto potete inserire il codice Cicciochamera89 o il codice Crax Basta che inserite uno dei due codici va bene, quindi mi raccomando non vi dimenticate perché è un casino Crax oggi ha avuto l'illuminazione, Crax ci vuoi raccontare il video, l'idea che ti è venuta? Allora, dato che è un sacco di tempo che non facciamo le duo Ed è vero Andiamo in duo, torniamo in duo e poi sapete che le due con Ciccio sono incredibili Ok, è vero Ma abbiamo l'obbligo di utilizzare entrambi la Queen Quindi io la metto nel mio deck e Ciccio la mette nel mio deck Allora, raga, io voglio di niente Ma 2.6 con la Queen e le Golem con la Queen Le Golem con la Queen l'abbiamo giocato un bel po' di tempo fa e funzionava di brutto Poi ci ho messo il biondo che funzionava ancora di più Però ci potrebbe stare Signori, tre partite Poi ovviamente anche sul canale di Crax ci saranno altre tre partite La mia Queen è di livello 11, quindi è molto leggera Questo mi sa che c'è il butter run, quello contro di noi, lo sai? E mi sa che quello c'è la mongolfiera Non lo so, potrebbe, io ipotizzo, però... Senti, io... Tu col 2.6 gestisci senza problemi Bello quel tronchetto, baby dragon Certo, la Queen all'11 Mamma mia, io avevo detto che c'è varcoso È buono quel pecca Non mi conviene abilitarla Io a me basta Guarda, io ci ho provato Bravo Vado io, vado io, vado io Bravo Questo lo fermo così Ok, io... Io sono senza elisir Buono, 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 buono Diciamo che... Stiremo in per due Il 2.6 difende un botto bene Accompagnato da un altro deck Cioè nel 2v2... Questo è comunque difficile Però ti avevo detto che uno c'eva il butter run, eh Era proprio scontato Scontato proprio Vado Vai, vai Io provo lo stesso a ripartire di qua Perché secondo me... Mamma mia, mamma mia Che veramente pessimi Posso dirlo, pessimi Ti lascio difendere a te, eh Vai Dovrei esserci Al livello 12 Ok Eh, io devo andare... Infatti devo andare qui, draghi Perché... Ti voglio magari di supporto con una spell Ok, tutto questo Vado? Sì, sì, a me Guarda, non sto toccando niente Perché credo che vada più che bene così Vai che pulisci tutto Vai che pulisci tutto Mamma mia, sì Vai, draghi Che godure il drago elettrico ragazzi Una roba infinita Doppia queen Doppia queen È abbastanza brutta come cosa Fai che so tre Brutta Mamma mia Doppia queen Penso che sia veramente Una Una roba Cioè quella torre Non... Ma... No, regà Da sentisse male E poi sapete qual è il bello Che abbiamo pure le stesse coppe C'è proprio ci matcha perfetti No, ma non hai capito Ma doppia queen, regà È... Io ho visto la sua torre Neanche il baby dragon La butta giù così velocemente È shot Cioè neanche la... Vabbè Uh, questo è un po' più tosto Aspettate, eh Maledetto che non sei altro Aia Facciamo così Double queen again Eh, oddio Santissimo La mia al 14 Eh Oh, in realtà Oh, e comunque Guarda quanto è forte la mongolfiera Adesso io Uii Però Bella zap Sarebbe fantastico Fati po' così Ok No, non è andato Hai visto? Forse ho zappato Vabbè Ah, no E basta Con sta tornato Basta con sta tornato Ma veramente, regà Ma fatevi una vita Io rotazione Eh, la creo Bravo La creo, la creo la rotazione Ho solo spell di supporto Intanto butto questo Tesla Tesla L'hai sentito il nerf della Tesla? L'ho sentito ed è... Penso giusto? Sì, assolutamente Questo deve far pallo E questo faccio così Vai che al 14 li sciogli Eccola Mamma mia Mamma mia Quella torre Mamma mia Quella torre Possiamo prendere danni Senza problemi Guarda, tocciongole Mio Giusto, sapete Che fai? Due nemiti Bevi Dragon È una delle mie carte preferite Da sempre Veramente E poi è una di quelle Che c'è stata da sempre Esatto Esatto Una delle storie Eccolo il pecca Allora Ti posso dire una cosa Ieri quando mi hai ostato Su YouTube E tu hai detto E mi è arrivata la tua chat E mi ha detto Ci occhio Perché Grax sta trovando Tutti i pecca O ci credi che ne ho trovato Anch'io una quintalata Tutti i pecca E Gran Cavalieri Ma una quintalata E niente Dai Che ci frega a noi Hanno sprecato Un mondo Faccio un trenino gigante Vai Tanto della ce stiamo No ma ti dico Abbiamo un botto di lisire Rispetto a loro Eh Questo lo vediamo così Quello non è male Bella tornato Faccio così Vai Faccio così Perché di là Si ci hanno fatto bua Madonna Eh ma noi andiamo per le tre Oh comunque hanno difeso Si Dovevo dire la verità Torre fatta Si hanno Hanno anche difeso Però mi sa che qualcosa De brutto Che è successo Abilito Ti dirò Si sono stati bravi Sono stati bravi La nostra queen La tua queen E purtroppo però Sai non ho avuto No Piro tecnica maledetta Devo Devo Sicuramente difendere qua Perché Mamma mia Questa è piuttosto Eh questa si Buona la conge Ce la dovremmo fare Perché Penso che si Doppia lane the push Provo eh Questa è un po' rischiosa Oh tornato in paggala Eh si 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 Decisamente Ah che bello Quando poi c'è sta pulizia no La ghiaccio La congelamento Io a me A me counter Su tutti i deck Perché se trovi una persona brava a usarla Ti crepa completamente Però L'abbiamo usata bene Lui ha sbagliato sia la ghiaccia Sia la congelamento Secondo me Hanno sbagliato tutte e due L'ultima poi quella lì Cioè ha congelato il cannone Ha sbagliato Ha sprecato di sire Adesso lo scoppio Quindi lui ha buttato quattro E tu hai buttato quattro anche tu per difenderlo E pure le frecce Un'altra volta lei abbiamo contro Mi rompo un po' le scatole Ti dico la verità Eh la pirotecnica si Ok quella la puoi fare Io posso pure far così Si come no Ma proprio gratis sta roba Ok Lo sai che io posso andare di queen Ma non ho i dra Hai il drago infernale Ok Eh ma ti pare che non c'hanno qualcosa che Che nervi che si muove Non riesco a buttare Mamma mia Raggiù Pampu 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 Te l'avevo detto Che però c'avevano lo stregone elettrico Ho detto Te pare che non c'hanno lo stregone elettrico E dico Beh col pecca Belli sti scheletrini Belli 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 Ma secondo me è proprio il meta Che ti spinge a mettere queste carte Perché con tutte le queen Campioni Il biondo Eh ma È normale Cioè nel senso È così Ti devono portare a fare queste cose qua Ci sarebbe tanto da discutere Da discutere come questa Fornace Che secondo me Lascia il tempo che trova Secondo me Questo è un problema No Io è imperativo che aspetto un secondo E prendo tutti quanti Vai c'è tutto Ho preso davvero tutti quanti Io penso che qui andrò a tirare una super fireball Mamma mia questa pulizia Eh no no Fondamentale Fondamentale Aia Aio Fino a qua ci stiamo Eh ma mo so chiavoli Esatto Vabbè che tu C'hai comunque roba Che gli fa perdere tempo Eccetera eccetera Però la vedo comunque grigia Vabbè overtime Nel momento giusto Aspetta grazie Questa l'abbiamo giocata bene Aspetta Sì no no Overtime Nel momento giusto Aia Questo faccio così Ce la possiamo fare Con molta calma Ce la possiamo fare Ti dico la verità Questo te l'aiuto Grande qui Eh Ottima 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 Guarda lì Guarda lì Guarda là Guarda là Ricordiamoci che comunque Noi dobbiamo sta in difesa Perché stiamo comunque Cannonau è sempre difficile A gestire Come verrà nel quadro Angelo Prenditi cura Di lei Non so come ferma quello Dai no 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 Tranquillo 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 Ok Vai 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 Vada nel dubbio Grande C Che spettacolo Nel dubbio Io Non me ne privo Erano livelli 13 Ma non erano scatti Eh no Ma però c'hanno tutte le carte a 14 Crax Saranno pure il livello 13 Ma se c'hai le carte a 14 Perché vuoi Vuoi far professionista Bellissimo Ragazzi Sì sì Quelli che pushano con l'archix al 13 Hai capito Easy Tre partite vinte Ma andiamo sul canale di Crax Ne facciamo altre 48 De partite Belle pulite Signori Crax Grazie mille Per essere venuto sempre qui con noi Ma è un onore La ringrazio Ma guardi dottore Guardi Signori Ci vediamo sul canale di Crax Guardate gli altri video Buon anno a tutti quanti Ciao ciao Buon anno a tutti Ciao